Dov'è il cartello? Ad aprile siamo stati in un paesino sperduto del nord della Pensilvania dove c'era un signore un po' matto che veniva preso per il culo da tutti, che parlava davanti a una folla così. Quel signore un po' matto è diventato Presidente degli Stati Uniti d'America e noi abbiamo capito una cosa, che serve il popolo, e qui il popolo c'è, servono idee, serve il cuore, serve il coraggio. Quelli ce li darà Matteo Salvini col diprofono adesso davanti a voi. Grazie!